Questo è pazzo, praticamente c'è un coglione a controsenso sull'asse mediano Cioè ma questo è un coglione Un coglione Io non ho niente idea, sta facendo tutta l'asse mediano, non si ferma neanche Dove si sta uccidendo? Non ho parole Non ho parole Vado Cioè stasciando pure Cioè vurea controzenso la Cioè vurea controzenso la